Non esiste un integratore più studiato della creatina e questa è una prova non solo della sicurezza ma anche dell'efficacia. Come detto più di mille studi scientifici condotti solo per studiare a fondo la creatina. In questo video parlerò di aspetti specifici relativi al tessuto muscolare e farò anche un'altra cosa che mi piace fare molto spesso, cioè risponderò alle domande che ricevo più frequentemente tra i commenti ma anche in studio da parte dei miei pazienti. Prima di cominciare però ricordati di recuperare il video precedente, un video di introduzione in cui ho parlato degli aspetti generali della creatina, cos'è, cosa fa, quali sono i benefici e soprattutto qual è il dosaggio. Partiamo, moltissimi degli studi condotti ma anche delle domande dei miei pazienti vogliono una risposta a questa domanda. Ma cosa fa la creatina al tessuto muscolare? Tutti gli studi ci dicono bene o male la stessa cosa. Il consumo giornaliero di circa 3-6 grammi di creatina rafforza il tessuto muscolare e anzi in caso di allenamenti intensi aiuta anche i fenomeni di riparazione. Altra cosa molto molto importante per gli sportivi, sì la creatina possiamo dire che aumenta le prestazioni e questo grazie all'effetto combinato non solo sui muscoli ma anche in corrispondenza dei mitocondri perché da una parte aumenta il numero dei mitocondri, dall'altra abbiamo visto che stimola, accelera la produzione di energia a livello cellulare. Come già detto nel primo video però la creatina è sicura ed efficace non solo negli sportivi o nella popolazione adulta generale ma anche negli anziani. Anche perché quando parliamo di anziani e tessuto muscolare viene scontato parlare di sarcopenia dove per sarcopenia intendiamo una condizione frequentissima per non dire puntuale oltre 65 anni di età e che consiste in una riduzione della densità del tessuto muscolare. Infatti se da una parte sappiamo che all'invecchiamento corrisponde un certo grado di sarcopenia sappiamo anche però che un grandissimo predittore di longevità altro non è che la massa muscolare. Questo perché c'è un motivo evoluzionistico e biologico per cui noi siamo letteralmente pellicciati di muscoli. Non solo forza, postura, struttura e supporto a quelle che sono le strutture scheletriche ma anche comunicazione con il sistema immunitario e comunicazione con il metabolismo. Quindi un tessuto muscolare non sarcopenico, anzi un tessuto muscolare tonico e ben stimolato, adesso vedremo come, ci aiuta con il metabolismo degli zuccheri e anche ci aiuta con il sistema immunitario, mica male. Per questo motivo nella mia pratica clinica do una grandissima attenzione al tessuto muscolare seguendo bene o male tre grandi pilastri. Il primo è l'apporto proteico nella dieta che è caratterizzato da una serie di parametri, infatti dipende dall'attività fisica, dipende dall'età, tutta una serie di condizioni. Però generalmente nella mia esperienza poche sono le persone che consumano una quantità adeguata di proteine. Il secondo pilastro è ovviamente l'attività fisica, uno stimolo importante per la crescita muscolare e rappresentato appunto dall'adattamento che segue un esercizio contro una resistenza. Quindi quegli esercizi in cui noi utilizziamo macchine piuttosto che pesi o il nostro peso corporeo, i cosiddetti esercizi funzionali. Infine abbiamo anche gli integratori. Integratori come la creatina hanno un ruolo fondamentale per la crescita, il mantenimento del tessuto muscolare e ovviamente anche i fenomeni riparativi e rigenerativi dopo gli allenamenti intensi. Altro grande tema, altra domanda che veramente ritrovo molto frequentemente. Cosa vogliamo dire a proposito di creatina e persone che seguono una dieta vegana? Per prima cosa gli integratori presenti sul mercato sono assolutamente vegan friendly, nel senso che non derivano da prodotti animali. La realtà è che secondo me la creatina non solo dovrebbe essere vegan friendly, ma dovrebbe essere praticamente obbligatoria in tutte quelle persone che seguono una dieta vegana, visto che nel momento in cui si sceglie di diventare vegani partono istantaneamente due carenze. La vitamina B12, e se non ne sei abbastanza sul tema ti consiglio di guardare il video che ho girato a proposito, e anche la creatina, visto che le fonti alimentari in cui ritroviamo più frequentemente questo composto aminoacidico sono la carne, il pesce e i crostaci. Per questo motivo i vegetariani e i vegani rappresentano la categoria che solitamente sperimenta i benefici maggiori. Questo perché i loro depositi muscolari di creatina sono davvero scarichi. Andiamo avanti con le domande. Qual è la forma migliore di creatina? Questo perché solitamente i pazienti quando fanno delle ricerche più approfondite trovano creatina effervescente, creatina HCL, creatina gluconata, creatina monoidrata, insomma chi più ne ha più ne metta. La realtà è che in questo caso il miglior rapporto qualità-prezzo ce lo abbiamo dalla forma più economica, la creatina monoidrato. Questo perché tantissimi studi si sono concentrati sulla domanda ma le forme più innovative, i brevetti più innovativi di creatina funzionano meglio? Ripristinano in maniera più rapida i depositi muscolari di creatina? No, la risposta è no. Quindi assumete creatina monoidrato. Adesso ultima, ma spinosa domanda. Molte persone infatti nel momento in cui arrivo a consigliare un integratore a base di creatina mi dicono che per anni hanno voluto cominciare questo tipo di supplementazione ma sono sempre stati bloccati da quell'aneddoto, da quella leggenda metropolitana per cui la creatina non faccia bene alla salute dei capelli. Ma vediamo cosa dice la scienza. Questa convinzione è datata 2009, anno in cui è stato pubblicato un piccolissimo studio osservazionale che segnalava l'aumento di un ormone, il DHT, in conseguenza del quale si stimolava la perdita dei capelli. La realtà è che successivamente questo tipo di correlazione indiretta è stata studiata più volte e più scienziati hanno cercato di replicare il risultato di quel singolo studio osservazionale del 2009 ma non ci sono riusciti. Per questo motivo adesso tutte le più autorevoli riviste ci dicono la stessa cosa. Non c'è nessun tipo di correlazione tra l'assunzione di creatina e la perdita dei capelli. Ok? Quindi, avvocato, il reato non sussiste. Per oggi è tutto. Se hai trovato interessante questo video fammelo sapere nei commenti e soprattutto condividilo con le persone a te care.